ciao a tutti nuovo video del giardino delle streghe oggi parliamo di una pianta che è lampone allora prima faccio una piccola avvertenza all'interno del video parlo di più del lampone come frutto e del lampone come pianta però non ho trovato discrepanze non è per esempio come il pino e le pigne dove trovavo che il pino aveva proprietà e le pigne ne avevano altre quindi penso che tutte le proprietà del frutto possono ricadere anche sulla pianta comunque accertate bene io non ho trovato cose in merito però accertate bene allora lampone personalmente è un frutto che io adoro tantissimo lo mangio tantissimo ho pure scoperto che abbinato il mio segno zodiacale quindi sono stra felice non l'ho mai usato in magia non l'ho mai usato a livello medico o comunque terapeutico però ne parlano tutti abbastanza bene soprattutto a livello magico per soprattutto per quello che riguarda l'amore ne parlano tutti abbastanza bene dicono tutti che comunque al suo perché diciamo diciamo così piace abbastanza ecco quindi io mi sentirei quasi di consigliarvela se avete esperienze con il lampone scrivetemele qua sotto nei commenti così le possono leggere tutti e detto questo vi lascio un bacione vi lascio il video sul lampone e noi ci vediamo per due settimane il lampone è il frutto rosso prodotto dall'omonimo arbusto e cresce in tutte le zone boschive per la popolazione dei cimbri il lampone era un ottimo amuleto di protezione in germania era invece chiamato bacca della cerbiata e le sue foglie erano prescritte alle donne incinte per evitare qualsiasi aborto il pianeta collegato al lampone è venere mentre il suo elemento è l'acqua è collegabile al segno zodiacale dei pesci le proprietà mediche del lampone sono le seguenti un infuso o un macerato aiutano in caso di gonfiore un impacco allontana la stanchezza degli occhi una maschera è utile per tonificare la pelle in campo esoterico è utile nei seguenti casi appendere dei rami di lampone su porte e finestre aiuta a proteggere l'ambiente domestico mangiare i frutti del lampone esprimendo un forte desiderio in campo d'amore aiuta a realizzarlo